L'amatori Catania Rugby non si ferma e continua la preparazione per proseguire al meglio la seconda parte di stagione, dopo aver chiuso da campioni d'inverno un 2016 ricco di soddisfazioni. Dedizione e umiltà continuano ad essere i valori cardini della squadra di Mister Vittorio, che però ha anche acquisito consapevolezza dei propri mezzi, confermandosi una big per la categoria. Anche durante i giorni di sosta natalizia, l'amatori si riunita al paolone, tra approfondimenti tattici e lavoro specifico per il pacchetto di mischia. Applicazione, lotta, sacrifici e allenamenti giornalieri per migliorare ancora di più una condizione già ottimale. Il primo posto e la conquista della promozione non sono più solo un sogno, ma qualcosa di concreto che deve però essere coltivato partita dopo partita. Obiettivo numero uno allora è la ripresa del campionato, con la gara di domenica al Benito Paolone alle ore 11.30 contro la Vezzano, primo test importante che sarà poi seguito dal prestigioso match contro il Civitavecchia. I ragazzi hanno lavorato molto bene anche durante questi giorni di festa, ha dichiarato coach Vittorio. Adesso la risposta come al solito la darà il campo e aspetto i miei ragazzi alla riprova proprio domenica alla ripresa del campionato. Le soste lasciano sempre qualche perplessità a concluso Vittorio, ma sono sicuro che faremo bene perché questo gruppo appare coeso e bramoso di togliersi molte soddisfazioni.